Per me la V3 Run è il primo anno che ero qua che l'ho corso, è stata la prima volta che correvo una gara podistica e da lì ho capito che dovevo farne altre mille, altre cento. Sono Sebastiano, sono a San Patrignano da quattro anni, ci sono arrivato un po' grazie alla mia famiglia e perché ero stufo della vita che facevo prima. Sono cresciuto in una famiglia normalissima inizialmente, avevo mio padre e mia madre, poi si sono separati e io ho preso una strada, inizialmente fumavo solo le canne con gli amici per divertimento, però poi non bastava più e sono passato a tutte di più. Lo sport per me prima della comunità era una perdita di tempo, anche se da bambino mi piaceva un sacco andare a sciare e andare ad arrampicare, però poi dai 16 anni in poi ho smesso di far tutto, cioè lo sport era perdere tempo per me. In comunità ho scoperto, ho riscoperto lo sport posso dire perché a fine giornata, dopo una giornata di lavoro in settore con tutti i miei colleghi avevo bisogno di staccare in qualche modo e l'unico modo che ci avevo era andare a correre, andare a giocare a basket, a palla a volo, però io ho scoperto la corsa e per me è stato il mio mondo, cioè da lì mi si è aperto un mondo. La corsa nel momento in cui corro mi si spegne tutto in testa, però penso solo agli obiettivi che ho, i pensieri si fanno più leggeri. Io corro con il San Patrignano Running Team perché a parte che ci sono tutti gli amici miei e poi si crea una fratellanza che c'è già tra di noi, però mentre c'è la fatica, mentre c'è lo sforzo senti ancora più l'unione che ci unisce.